e veniamo adesso a parlarvi del nuovo progetto della honor infatti la casa vicina alla huawei ha mostrato dalla sua ottica personale l'introduzione delle animoji ossia la stessa strada già percorsa dalla apple con iphone 10 ma che cosa sono le animoji diciamo che sono delle particolari emoticon facciali che riescono a fare il detecting del vostro volto e lo reinterpretano con appunto queste emoticon in maniera simpatica l'idea base che sta seguendo la honor è quella di reinterpretare il concetto già seguito dalla apple ma senza stravolgerlo l'identificazione del volto durerà circa 400 millisecondi leggermente più lenta della huawei al momento i cellulari honor 10 in produzione non dispongono di questa tecnologia ma sicuramente sarà possibile ammirarla a partire dai prossimi cellulari in commercio non è nemmeno escluso che venga fatta una versione successiva del 10 che possegga questo tipo di tecnologia rimane comunque il fatto che anche in questo caso la apple è stata la prima a puntare su questa innovazione delle animoji e costringere tutte le altre case a seguire la via da lei indicata